Ci farà bene oggi, durante la giornata, domandarci, ma come ricevo io la parola di Dio? Come una cosa interessante? Ah, il prete oggi ha predicato questo. Ma che interessante! Che saggio è questo prete! O la ricevo così? Semplicemente perché è Gesù vivo, la sua parola. E sono capaci, attenti alla domanda, sono capaci di comprare un piccolo Vangelo, costa poco, comprare un piccolo Vangelo e portarlo in tasca, portarlo in borsa. E quando posso, durante la giornata, leggere un passo per trovare Gesù lì, queste due domande ci faranno bene. Il Signore ci aiuti.